Elaborare la categoria di beni comuni è importante perché i beni comuni rimettono al centro una relazione che si è rotta in questi ultimi decenni. Ciò vale a dire la relazione tra umani e la relazione tra umani e non umani, dove nel regno dei non umani rientrano le cose, rientrano le altre specie, rientrano i microorganismi che lavorano alla terra, il mare. Beni comuni significa rimettere al centro una relazione ecologica con lo spazio in cui viviamo. Noi assistiamo a un fenomeno molto particolare, estensioni dello spazio, le grandi metropoli e nello stesso tempo la riduzione di quelle materie che servono a un'esistenza sana, soprattutto felice. I beni comuni mettono in questione due pilastri. La grande finzione dello Stato persona, che si atteggia come un proprietario in grande rispetto ai beni e oggi li usa, l'immenso patrimonio pubblico oggi è usato per ripianare i debiti, per cui è svenduto e messo sul mercato. E' il proprietario privato che oggi intensifica il rapporto con le cose, penso ai grandi proprietari, alle multinazionali, che sottraggono terra, sottraggono fonti di energia, sottraggono risorse minerarie. Insistere che i beni comuni significa individuare alcuni beni che sono funzionali all'esercizio di diritti fondamentali, che sono esattamente quella categoria che oggi è messa sotto attacco dalla espropriazione costante di spazi e di materie funzionali a questo esercizio. La categoria dei beni comuni non va intesa però come in modo tassonomico, non è un elenco di beni. La categoria dei beni comuni è una dispositiva ermeneutica che può servire ai consociati, come si dice tecnicamente, e a chi ha il potere legislativo, per cui per semplificare dal basso e dall'alto può servire a individuare quali sono quei beni funzionali all'esercizio di diritti fondamentali. Una volta individuati, e quasi sempre sono individuati da comunità che intorno ad alcuni beni esercitano il diritto anche fuori da quello che viene inteso come ordinamento legale, una volta individuati vanno capite come le comunità possono utilizzare direttamente questi beni, soprattutto come possono decidere di questi beni. E questo è il grande tema della democrazia e del grande tema della politica.